Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video Oggi giocheremo a Vlad e Nicky 2 Alla casa dei mostri Che in realtà sarebbe La casa di mercoledì Famiglia Adams Acquistiamo E entriamo Siamo in una casa stregata Guarda quanti dolci Vlad Ma come facciamo a prenderli? Eccoli qui In una bella Ma c'è un In un bel portabiscotti Ci sono tanti dolciumi Ed ecco Nicky E c'è un coso strano E c'è un omino Come potete vedere Dei bebaffi E una bella cravatta Mentre Nicky Vlad Ha un cappello da Frankenstein Ok, scorriamo un po' Cagnolino Un orso È il quadro Il quadro Il quadro è lì Devi scorrere lì Così Ed ecco qua Il nostro primo quadro È la nostra chiave Quasi un secchiello Tira in giù Tira in giù il secchiello Tira, tira No, tocca C'è qualcosa da metterci dentro Sì Una sedia Con un occhio Che si apre e si chiude La candela L'abbiamo preso Qua Qua Non va No, è lì che l'hai presa No, l'ho presa da così No, no L'hai presa da lì Una mano Una mano Questo pacchettino rosso Sotto al tavolino È rosa Ok, una combinazione Niente Tocca l'uno Qua Eh, penso di sì Ci manca un altro 3, 1 Tutti i 1 Oddio Sì Ma dobbiamo togliere i colori No, si accendono tutti Perché? Ok, non abbiamo capito niente I pesi C'è un pesi Ah, si alzi qua Si abbassa il secchio Vedi, si abbassa il secchio Eh Per Fare cosa? Preso Ok, preso il secchio Come potete vedere? Poi andiamo di qua Orologio L'orologio Sì, sì C'è anche mercoledì Guardate mercoledì Si girano le lancette Ok, dobbiamo mettere un'ora esatta Mezzanotte Sì No, non c'è No Ok Sono numeri messi a caso Queste Dobbiamo scoppiare le bollicine La mano No No Il secchio Oh qua, quello grande Il secchio Aspetta, aspetta Oh, è una stampa C'è questa arnese che abbiamo presa Poi c'è un mostro Un occhio Un divano strano I ragni Aspetta, aspetta Aspetta Un lampadario Forse manca la candela Sì, non è? Dobbiamo trovare sotto la candela? Opsi Ed ecco qui Abbiamo finito il pagel La chiave Dal pianoforte Una ruota Un cacchi C'è di sicuro una combinazione La carota Il quadro C'è qualcosa da mettere nel quadro Bisogna pulirlo Tutto scopo di bollore Ah, ecco Una combinazione 7592 Andiamo 75 75 75 75 92 Ok Il disco trovato Secondo me lo dobbiamo mettere qua Proviamo Eh sì Adesso È per la lunga Ha questo Manca questo Gira Gira, 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 gira Tadà È andata La chiave l'abbiamo presa Quella rossa Adesso l'orologio E l'orologio che dobbiamo fare Proviamo a mettere la mano nel calderone Ci abbiamo già provato Il secchio no E la candela no Nel calderone non va La zampa No La carota La carota No No Se un ostrichino si è mangiato la carota La candela no Però ho aperto un occhio E questo Se gli diamo una mano No Dobbiamo trovare Cosa è da mangiare Cosa è da mangiare Secondo me Per fargli aprire tutti gli occhi Ma questa non ce lo fa Non si può prendere No La manina La manina andava messa sull'orso gatto Non sappiamo cosa sia Proviamo con la candela Nel fuoco Ecco La candela si è finita Adesso ci dovrebbe dare qualche chiave Tocca un po' il fuoco L'occhio No il fuoco L'acqua Ah ecco Ecco cosa serviva Il sì Come oggetto ci ho rimesso solo la manovella Sì ma forse E dove la devo mettere? Torna un po' indietro È vicino al calderone Calderone Il calderone Davanti Proviamo un po' No Vicino al Sì No L'orologio no Divano no Bambino Che è un bambino con la manovella Iniziamo a mettere Le chiavi Allora Questa è viola E il lucchetto viola Nero Nero al centro Il mio è bello Sì sì Bellissimo Ma questo Questo? No Non c'è una cosa Li giriamo E adesso Ma non c'è la chiave C'è già da Ok 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 Se non è questo Gli specchia e l'orologio? Eh che dobbiamo fare Ma è Allora uno 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 Sette Sette Nove non c'è Quindi non è questo Non è questo Un'altra chiave L'abbiamo presa Dagli scacchi E l'ho fatto io Era in Mettiamo l'ultima Un'altra chiave Non l'ultima Non l'ultima Perché ne mancano ancora un po' Vediamo questo Eh Ok Ora ci mancano Il puntatore Ci Ah Perché prima non ce la faceva Prima Tipo C'aveva una barra Che la di Ah ecco Allora diamolo in pasto Mangia Allomino Allomino Che vuoi ora Un piatto Deve aprire l'altro occhio Eh La zampa La zampa E la facciamo mangiare Zampa di gallina Buono La chiave Miavita Ci manca L'ultima Quella dell'orologio Due Due Quattro Ed ecco qua La prova Sono un genio Adesso quel cosino Sopra come si fa E la chiave C'è Ed ecco qua Abbiamo tolto L'ultima serratura E ora possiamo aprire Il barattolo Il vasetto È aperto No Buon appetito E mangiate Guarda Mi sa che abbiamo fatto uscire Un fantasma Non mi importa Abbiamo un sacco di dolci Grazie per avermi liberato Ah 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 Per questo video Di Halloween È tutto Iscrivetevi al canale Lasciate un like Condividete tutti i nostri video Con i vostri amici E ciao E nella descrizione del video Lasceremo il link Del gioco Ciao Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti